Grazie. 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 Adesso io mi tolgo dall'audio e dal video e poi ci risentiamo mercoledì. Mercoledì avremo un collegamento con Mauro Bonazzi, filosofo, che insegna a Utrecht e quindi ci parlerà dall'Università di Utrecht. Grazie mille. Buonasera. Spero che mi vediate bene. Bonazzi vi parlerà da Utrecht. Io vi parlo da Atene. Sono qui a Atene nella casa di una bravissima traduttrice dal greco all'italiano che si chiama Maria... scusate dall'italiano al greco si chiama Maria Franguli e mi ha ospitato qui per parlare con voi. Devo dire che per me fare una conferenza online senza vedervi è un po' difficile perché insomma mi piace vedere le facce diciamo. Soprattutto perché se uno si annoia diciamo chi parla tendenzialmente lo capisce e cerca di migliorare un po' la sua chiacchiera. Ecco questo non lo posso fare. però spero di non annoiarvi ma forse voi potete scrivere mi pare di capire. Quindi se potete farlo e se vi sto annoiando ditemelo perché insomma non fate complimenti. sennò questi mezzi per avere dei rapporti il più possibile umani nonostante questo periodo così difficile non fanno quello che devono. Va bene come vi ha detto la professoressa Davoli io vi parlerò di Achille Odisseo e ve ne parlerò per come diceva proprio lei per raccontare una storia che non è affatto antica non è affatto perduta ma è una storia che ci riguarda ancora perché è una storia senza tempo come dite giustamente voi è una storia che che ha a che fare con l'essere umano al di là di del tempo storico in cui in cui si sta vivendo. vedrete credo spero di farvi vedere soprattutto per quello per il periodo difficile che stiamo vivendo forse tornare a cercare di capire meglio le figure nella fattispecie di Achille Odisseo forse può esserci utile. Ma insomma cominciamo mi sono appuntato un po' di cose e farò del mio meglio. perché Achille Odisseo innanzitutto perché in generale noi siamo portati a pensare che l'opposizione fra i eroi omerici due grandi eroi omerici che si contrappongono siano Ettore e Achille. da bambini almeno questo capitava a me si diceva voi preferisci la parte di Ettore o quella di Achille diciamo che chi era per il buono perdente si metteva dalla parte di Ettore per lo spietato vincitore si metteva dalla parte di Achille. Beh bello un gioco di ruoli appassionante ma molto sbagliato in fondo e cercherò di spiegarvi perché innanzitutto cercando di farvi capire che Achille non è affatto lo spietato mostro di cui spesso si parla e di cui si continua a parlare in questi termini in alcuni libri romanzi eccetera. è una specie di omaccione idiota insensibile non è affatto così ma soprattutto che Ettore e Achille sono due facce della stessa medaglia sono due aspetti dello stesso tipo di eroismo due aspetti della stessa umanità. in fondo se noi andiamo a vedere la vita di questi due ragazzi bene gran parte speculare Ettore e Achille sono entrambi due giovani un po' più giovane Achille ragazzi punte entrambi di diamante delle delle rispettive fazioni che si contrappongono sono i due che si uccidono a vicenda. cioè Achille uccide Ettore ma Ettore morendo preconizza a Achille la sua morte molto vicina si danno appunto in qualche modo vicendevolmente la morte sì sono i nemici sul campo di battaglia ma appunto sono entrambi due giovani ragazzi che vanno incontro a una fine prematura sono entrambi due grandi appassionati della loro famiglia dei loro figli famosissima storia fra Ettore e Andromaca con il figlio Astianatte il saluto terribile che Ettore dà al figlio piccolo prima di di ritornare al campo di battaglia e non tornare mai più ma anche Achille ha un figlio che lo aspetta sia Neottolemo e Achille ha un padre amatissimo che non riabbraccerà più e entrambi seguono il loro dovere non vorrebbero affatto guerreggiare ma fanno quello che devono fare ovvero sia difendere la propria patria ecco la propria città il proprio schieramento ecco però appunto entrambi sono due ragazzi che non vorrebbero affatto morire entrambi vanno incontro a questa morte con grande dignità anche perché sono così confortati dall'idea che morendo in quel modo la loro loro nome resterà per l'eternità resterà immortale e attraverso il canto degli aedi del tempo quindi della letteratura da questo punto di vista avevano ragione perché noi siamo passati tremila anni abbondanti e stiamo qui a parlare di Achille e Ettore e anche degli altri eroi ma insomma sono eroi che sono rimasti immortali attraverso il canto degli aedi e quindi della letteratura però appunto come dicevo fin dall'inizio gli eroi che veramente si contrappongono sul campo di battaglia di Ilio ovvero sia di Troia sono Achille e Odisseo guardate per gli antichi questo era molto evidente talmente evidente che quasi non serviva neanche dirlo talmente evidente che c'è una scena spesso poco considerata all'inizio dell'Odissea non all'inizio proprio all'inizio ma insomma comunque nella parte iniziale dell'Odissea in cui questa contrapposizione è data proprio per scontata io adesso vi leggerò le poche righe di questa che ci mettono in luce questa contrapposizione ma ve le contestualizzo prima Odissea ormai sta tornando a casa e finalmente sta avuto più o meno via libera per il suo ritorno a Itaca fa naufragio ancora una volta perché appunto le sue vicende non possono essere semplici mai e finisce in quest'isola magnifica che è l'isola dei Feaci Scheria un'isola che probabilmente si può identificare con Corfu ma insomma comunque sia viene accolto con tutti i crismi dell'antica ospitalità la Xenia Xenia era l'istituzione dell'ospitalità una parola che viene da Xenos Xenos vuol dire in greco antico straniero ma soprattutto ospite perché lo straniero va se arriva senza cattive intenzioni va innanzitutto ospitato ecco una vicenda che noi tendiamo a dimenticare diciamo oggi visto che dello Xenos si parla più in termini di xenofobia di odio, di fobia verso lo straniero invece per gli antichi la parola Xenos si usava più che altro per il composto filo Xenia, amore, amicizia verso lo straniero che era appunto ospitato ma insomma Odissimo viene ospitato viene invitato a tavola viene imbandito un banchetto molto molto insomma di quelli che ci piacciono a noi penso a noi dico mi metto dalla vostra parte perché io da voi ho mangiato e mangio quando vengo in maniera sublime sono stato ospitato l'anno scorso da voi no l'anno scorso poi non era neanche l'anno scorso ma insomma comunque sia sì no era l'inizio di quest'anno l'inizio di quest'anno sono stato ospitato appunto quasi come Odissio e insomma comunque a tavola nessuno sa che si tratta di Odissio nessuno gli ha chiesto chi lui sia perché l'ospitalità è questo non domandare chi sia la persona dove vada cosa voglia ma semplicemente accoglierla e viene chiamato per questo uomo che è arrivato dal mare viene chiamato a lietare la giornata di 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 banchetti un un cantore un cantore che è un sostanzialmente è una un alter ego di Omero cioè uno di questi cantori di aedi che cantavano accompagnandosi col suono della cetra cantavano storie di eroi e vi leggo appunto il passo scusate mi sono perso l'inizio ovviamente no eccoci qua tutti ma quando tutti perdonate ma qui un scarabocchiato cose ma quando tutti la voglia di cibo e di vino saziarono la musa ispirava il cantore a cantar glorie ed eroi un fatto del quale allora la fama al cielo vasto saliva la lite tra Achille Pelide e Odissio che contesero un giorno a un lauto banchetto dei numi con spaventose parole alcuni versi in cui Agamennone si viene descritta la felicità di Agamennone nel vedere Achille e Odissio che contendono e poi riprende così questo cantava il cantore glorioso e Odissio lì ha seduto a tavola ascoltando questo canto che raccontava appunto della lite fra lui e Achille e Odissio il grammanto purpureo afferrando con le mani gagliarde lo tirò sulla testa la bella fronte nascose che dei feaci aveva pudore a versare lacrime sotto le ciglia Odissio scoppia a piangere scoppia in lacrime e perché perché ascolta le storie che lo riguardano non si aspetta di essere già parte di una storia che viene cantata a tavola ignorando che sia lui il protagonista di quelle storie e si nasconde proprio perché non vuole essere identificato con colui del quale si parla si canta anzi perché Odissio è prudente lo diremo e lo ridiremo oggi non vuole mai dire chi lui sia non vuole mai rivelare la sua identità ma l'importante è questa lite questa lite che che grosse parole parole violente mise di fronte a Chille e Odissio di che lite si trattava in realtà noi non lo sappiamo nessuno ce lo racconta Omero non ce lo dice gli antichi stessi più più secoli dopo Omero si chiedevano in cosa consistesse questa lite ma in realtà non importa tanto sapere in cosa consistesse la lite importa sapere che Odissio e Achille contendevano si opponevano si contrapponevano e perché si contrapponevano per gli antichi era scontato perché avevano caratteri assolutamente opposti ma completamente opposti si può parlare quindi diciamo di una lite caratteriale di un'opposizione caratteriale e come vi ho già detto è molto facile da enucleare questa contrapposizione caratteriale perché se Odissio è quello che già vi ho detto e che molti di voi probabilmente sanno perché insomma di Ulisse come si dice da noi ma io uso Odissio per non confonderlo con l'Ulisse di Dante che è un'altra è un'altra figura eroica ben diversa dall'Odissio Omerico Odissio è un eroe prudente attento astuto menzognero ingannevole abbindolatore Achille invece è il contrario è sincero schietto dice sempre quello che gli viene in mente ha sempre la parola pulita potremmo dire non mente mai è diretto l'intelligenza di Achille è l'intelligenza di andare dritto contro l'ostacolo l'intelligenza di Odissio è quella di andare sui lati di accerchiare di abbindolare non di andare dritti non di dire la cosa che si pensa ma di aspettare di vedere come stanno le cose di trovare gli artifici per abbindolare colui o colei con cui si ha a che fare ecco sono due caratteri che in fondo noi ritroviamo in tutti noi anche oggi c'è chi è più schietto e diretto e c'è chi più attendista prudente sagace ecco quando dicevamo sono storie senza tempo sono caratteri degli esseri umani e noi conosciamo benissimo c'è chi è più come Achille c'è chi è più come Odissio insomma credo che vi sia molto chiaro abbiamo incontrato tutti gente che esuberante istintiva impulsiva gente che più riflessiva attenta attendista prudente però quando noi parliamo di schietto e menzognero siamo portati a pensare che ci sia una contrapposizione di tipo morale che chi è schietto e sincero rincorra il vero e chi è un po' più falso e menzognero invece si faccia sedurre dal falso e quindi siamo portati a pensare in questo caso che Achille sia moralmente superiore a Odissio le cose non stanno così sono molto più complicate e lo vedremo oggi parlando di queste due figure così importanti e lo vediamo subito andando un po' indietro rispetto a questa scena ovvero sia all'inizio dell'Iliade bevo scusate penso che molti di voi ricordino come comincia l'Iliade l'Iliade si apre con una lite furibonda fra Achille e Agamennone Agamennone è il capo della spedizione e Achille litiga con Agamennone adesso non entriamo nei particolari ma in sostanza c'è un momento che assomiglia molto forse a quello che stiamo vivendo perché c'è un'epidemia che sta mietendo morte nel campo degli Achei Achille dice a Agamennone che non ha senso perché bisogna trovare il modo di far finire questa epidemia e semmai dare un altro senso alla guerra Agamennone non vuole ascoltare Achille Achille si indigna getta lo scettro a terra e se ne va sul mare a piangere e poi abbandona la guerra abbandona il campo di battaglia si rinchiude nella sua tenda questo è l'inizio dell'Iliade penso che insomma sia la storia che tutti conosciamo e che non ci sia troppo bisogno di tornarci sopra ma soprattutto non c'è bisogno perché quello che mi interessa raccontarvi è qualcosa che viene poco dopo anche se già questo inizio su cui magari un po' torneremo ci dice chiaramente l'opposizione fra Achille e Odisseo perché Achille è quello che subito prende la parola e subito dice la sua Odisseo no invece sta zitto in quel momento vabbè ma ci torneremo quello che mi interessa è come continua la storia gli Akei senza Achille rischiano di perdere la guerra in sostanza e quindi Agamennone si risolve a chiedere scusa a Achille a mandare un'ambasceria alla tenda di Achille per implorarlo di tornare in battaglia gli chiede scusa e gli chiede di tornare in battaglia manda dunque alla tenda di Achille tre grandi figure uno è Aiace che è un cugino di Achille molto simile a lui molto forte molto schietto l'altro è Fenice che è stato una specie di educatore di Achille e il terzo è Odissio il grande persuasore il grande ingannatore lo abbiamo detto è Odissio che prende la parola porta le scuse di Agamennone a Achille cerca di convincerlo a tornare in battaglia e Achille non ne vuole sapere non si lascia persuadere dal grande persuasore ma la risposta le prime i primi versi della risposta di Achille a Odissio ce la dicono lunga su questa contrapposizione caratteriale ve li leggo allora parlò rispondendo Achille pie veloce laerziade divino laerziade perché Odissio è figlio di Laerte laerziade divino Odissio ingegnoso la risposta bisogna chiarirla apertamente quel che farò quel che avrà compimento perché non continuiate sedendomi accanto a ciarlare odioso mi è colui come le porte dell'Ade le porte della morte mi è odioso come le porte della morte colui che una cosa nasconde in cuore e un'altra cosa dice questa è la risposta sono i primi le prime parole con cui Achille risponde a Odissio gli dice chiaramente io non ho nessuna intenzione di avere a che fare con chi mente con chi dice una cosa e un'altra ne pensa cioè Odissio l'ingannatore quello che abbiamo detto l'astuto il persuasore ecc di nuovo appunto ci viene da pensare che si tratti di una contrapposizione morale no ecco Odissio in fondo appunto lo ripetiamo ma insomma è sempre abituato a tessere trame a non dire mai come nel momento in cui è stato ospitato dai feasci chi lui sia dove stia andando cosa voglia non dice mai nulla eppure lo scontro questo scontro qui non è una questione morale non apre una questione morale ma altro e ci arriveremo che non apre una questione morale ce lo mostra il più grande filosofo dell'antichità se non di tutti i tempi ovvero sia Platone in un dialogo giovanile molto interessante che è l'Ippia minore dedicato quindi a Ippia minore perché ce ne sono due di questi dialoghi quindi uno è detto Ippia minore uno ha detto Ippia maggiore entrambi dedicati a Ippia un sofista della generazione di Socrate molto esperto di Omero in questo dialogo appunto Platone mette in scena un dialogo fra il suo Socrate e Ippia proprio intorno a partire sulla menzogna sulla sincerità la schiettezza eccetera eccetera a partire dalla contrapposizione fra Achille e Odissio proprio perché come vi dicevo per gli antichi era scontato e naturale contrapporre quei due eroi non Achille e Ettore ma Achille e Odissio come due facce due aspetti opposti di umanità due caratteri che manifestano due modelli di umanità diversa come abbiamo detto finora Platone è un genio ecco letterario e filosofico e ci mostra qui però l'altro aspetto della medaglia e come fa? lo fa proprio partendo dal brano che vi ho appena letto che era un brano famosissimo Ippia che è questo grande esperto di Omero infatti fa riferimento proprio a quel brano per sottolineare la contrapposizione fra sincerità schiettezza di Achille e attitudine alla menzogna invece di Odissio cita quel passo non lo rileggiamo ma proprio nel dialogo viene citato per intero però Socrate lo contraddice e gli dice guarda caro Ippia che questo Achille che dice che lui non pensa e non dice cose diverse proprio in questo in questo questa risposta che dà a Odissio più tardi dice che lui se ne va a casa che ha smesso di guerreggiare che il giorno dopo prenderà le sue navi e se ne tornerà a casa ma sappiamo tutti che Achille non lo fece mai Achille restò lì tornò in guerra in battaglia per vendicare Patroclo il suo amico compagno morto per mano di Ettore e pur di vendicarlo appunto tornò in battaglia eccetera quindi Achille mente ha detto che se ne andrà e non se ne va ma Platone non è non mette in scena un Ippia come uno scemo che si fa fregare da Socrate come spesso certi lettori pensano Ippia non è scemo per niente e Platone non crea nelle sue pagine uno scemo e gli fa dire gli fa dare la risposta migliore a Socrate gli dice sì è vero ma non ha mentito nel momento in cui Achille ha detto che se ne sarebbe andato era sincero era schietto in quel momento lui credeva in quello che diceva poi le condizioni cambieranno Patroclo verrà ucciso e lui sarà costretto a tornare in battaglia dunque lo scarto fra Achille e Odissio resta immutato cioè Achille nel momento in cui dice la sua è sincero e schietto Odissio quando invece mente premedita già sa cosa avverrà o cosa lui vuole che accada ma facendo così quel genio di Platone ci mostra che la grande contrapposizione fra Achille e Odissio non è soltanto caratteriale ma è di un atteggiamento umano nei confronti del tempo è come vivere il tempo Achille è gettato nel presente vive il presente vive sempre in quel momento in quel momento pensa quella cosa e la dice nel momento dopo cambia opinione e torna in battaglia quello è sempre nel presente Odissio è sempre invece proiettato nel futuro il futuro è il tempo di Odissio Odissio sta sempre pensando a ciò che potrà accadere è attendista per questo è prudente per questo perché guarda sempre oltre torniamo appunto all'inizio dell'Iliade di cui vi dicevo poco fa beh lì in quel momento Achille vuole risolvere la situazione presente ovvero sia l'epidemia vuole risolvere il problema della guerra che si è insomma incagliata in un nulla di fatto ormai sono passati nove anni vuole risolvere la questione presente Odissio tace perché aspetta un altro momento aspetta sa che i giorni passino sa che qualcos'altro deve accadere ecco guarda lontano e tace di nuovo sembra negativo Odissio beh no adesso possiamo proprio rivalutare un po' Odissio e possiamo dire che nel suo guardare lontano Odissio è molto vitale è molto attento a dar vita alle situazioni a mantenere in vita i suoi compagni a mantenere in vita se stesso e a dare vita agli eserciti alle donne agli uomini con cui ha che fare guardiamolo in un momento bellissimo verso la fine dell'Odissea un attimo alla fine dell'Odissea quando ormai Odissio sta quasi per riprendere possesso del suo scettro uccidendo tutti i pretendenti la sapete la storia perché hanno raccontata film rielaborazioni di ogni genere ma insomma ormai Odissio è tornato a Itaca non si è rivelato a nessuno fuorché al figlio e sta per prepararsi alla alla vendetta ma prima della vendetta appunto è arrivato alla reggia è arrivato nelle vesti di un mendicante si è camuffato ha mentito sulla propria identità non racconta a nessuno cosa stia facendo se non appunto come vi ho detto al figlio non abbraccia il cane argo che muore poco lontano da lui si nasconde alla lacrima che sta sta piangendo per il cane che l'ha rivisto e aspettato dopo 20 anni e anche quando rivede la moglie Penelope non si rivela si trattiene eppure trattenendosi perché appunto nella sua strategia di attesa trattenendosi però soffre molto infatti Odisso è l'uomo che molto sopporta l'uomo che dice al suo cuore di sopportare e in questo momento appunto dopo aver parlato con la moglie dopo aver tentato di rassicurarla Odissio arriverà certo è lui lo sa che è lì ma cerca di dirle guarda stai tranquilla sta per tornare è vicino alla reggia io lo so ne sono convinto ne sono sicuro cerca di di darle forza poi se ne va a dormire e quando va a dormire soffre e vi leggo questo bellissimo brano in cui Odissio che ha mentito su se stesso sulla propria identità e aspetta ancora il momento di vendicarsi come ha sempre fatto soffre a letto Odissio meditando la strage dei pretendenti giaceva desto e dalle stanze le donne uscivano quelle che sempre coi pretendenti si univano una all'altra augurando riso e piacere e nel petto di lui si gonfiava il furore molto era incerto l'anima in cuore se avventarsi a un tratto e dar morte a tutte o ancora lasciar che facessero coi pretendenti l'amore per l'ultima volta il cuore gli latrava di dentro come una cagna che i teneri cuccioli bada se non riconosce l'uomo latra e si si tiene pronta a combattere così dentro latrava il suo cuore sdegnato dalle azioni malvagie ma comprimendo il petto rimproverava il cuore sopporta cuore diceva a se stesso più atroce pena subisti il giorno che l'indomabile pazzo ciclope mangiava i miei compagni gagliardi e tu subisti finché l'astuzia ti liberò da quell'antro che già di morire credevi così diceva nel petto rimproverando il suo cuore e fermo nell'obbedienza restava il cuore costante tenacemente beh insomma Omero è gigantesco lo sappiamo ma che cosa ci sta raccontando qui è una scena bellissima che non si dovrebbe neanche commentare no? insomma è l'uomo che vorrebbe fare come Achille prendere uscire dalla sud al giaciglio tirar fuori la spada uccidere le donne che tradiscono la sua casa uccidere i pretendenti fare tutto quello che l'istinto il cuore lo porta a fare eppure si plaga si ferma si costringe a aspettare e costringendosi ad aspettare Odissio si ricorda un un aneddoto fondamentale per spiegarci la natura della sua propensione a guardare oltre ovvero sia la famosissima vicenda del ciclope di Polifemo no? allora anche questa penso che più o meno sia nota perché anche se uno non ha letto Omero da qualche parte c'è arrivata comunque sia il Polifemo è questo enorme mostro con un occhio solo nella cui grotta arrivano Odisso e i suoi compagni e è un uomo che selvaggio che quindi non rispetta le regole dell'istituzione sacra della Xenia dell'ospitalità e anzi gli uomini ospiti e stranieri che arrivano non solo non li mette a tavola ma se li mette a tavola cioè se li mangia bene che cosa fa Odissio quando si trova di fronte a Polifemo e vede che Polifemo questo mostro brutale che uccide i suoi compagni è inutile raccontarlo vi leggo quello che che pensa lì per lì appena Odissio si trova di fronte a questa situazione e io pensai nel mio cuore magnanimo di avvicinarmi e la spada puntuta dalla coscia sguainando piantarla nel petto dove il fegato s'attacca al diaframma cercando a tastoni ma mi trattenne un altro pensiero infatti noi lì saremmo finiti di morte terribile non potevamo certo dall'alta apertura a forza di braccia spostare l'enorme roccia che vi aveva addossata che succede Odissio ha capito che se uccidesse se facesse quello che farebbe Achille così dire se tirasse fuori la spada e uccidesse subito il mostro lui e i compagni resterebbero a morire nella 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 caverna dove c'è questo masso che dice fin dall'inizio disse ha capito che non l'avrebbero spostato neanche venti buoi ben aggiocati ecco solo il ciclope può aprirlo e quindi deve aspettare anche se l'attesa costa la vita di altri uomini ma quelle vite sono purtroppo il prezzo da pagare per salvarne altri ecco in cosa consiste l'attesa di 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 Odissio attendere guardare al futuro certe volte non solo è un'attitudine possibile ma necessaria potremmo a questo punto pensare che Odissio sia l'uomo che appunto abbiamo eliminato la questione morale però è l'uomo che esalta la vita perché attendendo e guardando oltre è l'uomo davvero vitale Achille invece è l'uomo che entra in battaglia dopo la morte di Epatro lo spazza via tutto uccide e questo lo porterà alla morte quindi forse saremmo portati a pensare Achille come l'eroe invece animato da una sorta di pulsione di morte come hanno detto alcuni studiosi alcuni elettori bene in realtà non è così siamo portati un po' a pensarla così perché spesso guardiamo Achille soprattutto nel momento in cui rientra in battaglia nel campo di battaglia preso dal furore vendicativo per la morte del compagno amico Patroclo in realtà Achille è tutt'altro torniamo a quel brano che vi ho letto dalla risposta di Achille a Odissio nella tenda quando l'ambasceria composta Achille a Iace e Fenice è arrivata a chiedere perdono le scuse a portare le scuse di Agamem quando i tre entrano nella tenda di Achille noi ci troviamo di fronte a una scena di un'intimità familiare magnifica in cui c'è un uomo che vuole vivere Achille sta suonando sta cantando accanto Patroclo versa del vino stanno in una pace familiare sublime e Achille è un ragazzo che vuole vivere un ragazzo fragile che non ha nessuna intenzione di fare quella guerra che quella guerra la reputa non sua e è talmente attaccato alla vita è talmente desideroso di vivere sentite cosa dice poco dopo in quel brano sempre che vi ho letto prima di cui vi ho letto la risposta iniziale a Odisseo niente per me vale la vita non che niente che la vita non valga niente niente vale come la vita questa è una traduzione ma insomma questo vuol dire niente per me vale come il soffio della vita potremmo dire non quanto dicono che Troia solida rocca aveva prima in pace cioè ricchezze immense prima che vi giungessero i figli degli Achei non quanto racchiude la soglia di pietra del tempio d'Apollo di Febo saittante in Pito Rocciosa cioè il tempio di Apollo a Delfi pieno di ricchezze che portavano tutti per chiedere gli oracoli di Apollo della Pizia buoi grassi montoni si possono rapire si possono comprare tripodi e bionde criniere di cavalli ma la vita di un uomo perché torni indietro rapire non la puoi e nemmeno comprare quando ha passato la siepe dei denti quando la vita esce dai denti per i greci la vita era la psichela era un soffio che usciva dai denti o dalle ginocchia quando si esalava l'ultimo respiro la vita non torna più indietro non la puoi comprare non c'è la ricchezza che tenga ecco e lui vuole vivere questo è Achille allora noi di nuovo però potremmo pensare che questo Achille che vive i suoi attimi si è appassionato alla vita solo prima della morte di Patrocolo e poi quando muore Patrocolo viene preso da una specie appunto di pulsione di morte vendetta istinto violento sanguinario eccetera non è così se noi leggiamo attentamente la seconda parte dell'Iliade dopo che Achille l'ultima parte dell'Iliade dopo che Achille ha ucciso Ettore faticosamente Achille torna alla vita indice dei giochi funebri in onore del suo del suo grande amico e compagno Patroclo che è una sorta di ritorno alla vita di elaborazione del lutto tanto che lì di fronte a un ragazzo che sarà il ragazzo che prenderà un po' il posto di Patroclo che si chiama Antiloco Achille torna a sorridere Achille vuole vivere vuole vivere il presente vuole vivere un presente che è un presente infinito e lo vediamo alla fine dell'Iliade una delle ultime scene dell'Iliade quella scena sublime in cui Achille abbraccia Priamo lo sapete quando Priamo re di Troia decide di lasciare la reggia di notte sfidare i nemici passare attraverso il campo nemico pur di andare alla tenda di Achille a reclamare il corpo del figlio Ettore per poterlo piangere per poterlo onorare ecco che fa Priamo arriva a questa l'apertura della tenda di Achille e si trova davanti il suo peggior nemico cioè l'uomo che gli ha ucciso il figlio Achille invece di fronte a sé vede sbalordito a sua volta il suo peggior nemico perché Priamo è il re della città che gli ha tolto la giovinezza il re della città nemica il padre di quell'uomo che ha ucciso e che gli ha ucciso Patroclo due nemici efferati si trovano davanti uno di fronte all'altro eppure in quel momento quelle scene clamorose dei poemi omerici tutto si sovverte perché Achille non vede più in scusate Priamo non vede più in Achille l'uomo che gli ha ucciso il figlio ma vede un giovane ragazzo che va incontro alla morte anche lui e quindi vede in lui suo figlio rivede l'eroismo gagliardo del figlio Ettore appunto quando vi dicevo Ettore Achille sono esempi della stessa umanità lo stesso Priamo lo vede e non solo Achille vede in Priamo non più il nemico ma un vecchio padre un vecchio padre che ha perso il figlio e quindi vede in lui suo padre Peleo vede suo padre perché sa che lui fra poco morirà e che non tornerà più aftia non potrà più riabbracciare il padre Peleo e Peleo resterà solo resterà come quel vecchio che ha lì davanti che non lo potrà non può più riabbracciare suo figlio e quindi succede che appunto si avvicinino l'un l'altro si abbraccino e si mettono a piangere insieme è una scena di una bellezza sublime se non altro per questo leggete l'Eliad e leggete i poemi omerici per intero se non l'avete già fatto perché è una delle letture più forse la più bella lettura che si possa fare nella vita forse insieme alla Bibbia ma insomma scusate ma mi commuovo eh anche non c'ho nessuno davanti ma io penso a queste cose ci ho pensato tanto ma ogni volta che ci ripenso vabbè che c'è lì in quel momento in cui Achille stringe Priamo c'è il presente un infinito presente in cui si scardinano tutte le coordinate spazio-temporali non c'è più il nemico siamo tutti uguali siamo tutti esseri umani destinati a morire a una breve vita si abbracciano i nemici sono solo padri e figli un padre che ha perso un figlio un figlio che ha ucciso il figlio dell'altro padre un figlio che non riabbraccerà suo padre padri e figli che piangono il dolore più grande della nostra condizione ovvero sia la mortalità ecco insomma Achille è quel mostro che vuole vuole morire che vuole distruggere che vuole soltanto uccidere no con Achille abbiamo il trionfo del presente con Odissio abbiamo il trionfo del futuro abbiamo detto che il trionfo del futuro con Odissio è vitale beh non sempre ma prima di avviarci alla conclusione bevo un altro po' di acqua io sono un bevitore ma insomma non solo di acqua eh sia ben chiaro beh il guardar troppo al futuro spesso è un guaio lo sappiamo bene anche noi che siamo spesso portati a progettare a pianificare a guardare oltre e poi a parte il fatto che le contingenze spesso ci impediscono di realizzare quello che avevamo pianificato ma soprattutto ci accorgiamo a un certo punto che magari abbiamo pianificato e poi abbiamo realizzato e abbiamo subito ricominciato a pianificare ma cosa stiamo aspettando allora cosa stiamo facendo intanto il tempo passa e la fine si avvicina per essere proprio scusate drastici godiamoci il nostro presente ogni tanto no? Ecco Odissio certe volte è veramente il paradigma dell'uomo che invece non riesce a godere del suo presente e c'è una scena famosissima alla fine dell'Odissea che ce lo mostra ovvero sia quando Odissio finalmente riabbraccia la moglie forse l'avete letta se non l'avete letta fatelo perché anche quella scena lì vale più di tanta letteratura o presunta tale non è che io voglia svalutare i miei coetanei o me stesso tutti cerchiamo di scrivere ma insomma poi quando si leggono queste cose qui siamo tutti un po' dei nani comunque sia insomma io continuo a provare a scrivere la mia ambizione è intatta però insomma bisogna ammettere una scena come quella dell'ultimo colloquio fra Odissio e Penelope o Penelope che gli dice lo mette alla prova per l'ultima volta Odissio che perde la pazienza e le parla del letto del letto come lui lo costruiva insomma è una scena bellissima ma insomma quando finalmente si riabbracciano e si ritrovano che succede succede qualcosa di pazzesco perché sono passati vent'anni immagino sappiate dieci anni per conquistare Troia dieci anni per tornare a casa dopo vent'anni finalmente si ritrovano marito e moglie una moglie che lo ha sempre aspettato e quindi che succede che gli dei di fronte a questa scena fanno di tutto perché si allunghi il momento dell'abbraccio e Atena che ha molto caro Odissio fa sì che la notte si fermi duri il doppio della notte del tempo comune scardina appunto le coordinate temporali per gettare Odissio in quel presente una scena bellissima e vediamo come si comporta Odissio sono abbracciati piangono si raccontano stanno insieme anche sessualmente quello che aspettavano chiacchiere e amore e certo sul loro abbraccio e sul loro pianto sarebbe sorta l'aurora dita rosate rosate se non avesse pensato altra cosa la dea Atena occhio azzurro la notte sull'orizzonte allungò trattenne sopra l'oceano l'aurora aureo trono i cavalli rapido piede non li lasciava giocare che luce agli uomini portano e allora alla sua donna disse l'accorto Odissio o donna ancora alla fine di tutte le prove non siamo giunti ancora mi resta smisurata fatica lunga aspra che tutta devo compiere e qui a me mi cascano le braccia perché voglio dire Odissio che non si è mai rivelato non ha mai detto la verità non ha mai detto all'inizio chi era non ha mai detto tutto quello che ha in mente tutto quello che sa sa benissimo che deve ripartire e appena si abbracciano e hanno una notte infinita gli dice alla moglie che deve partire francamente qui scusate però Mattiettelo stati zitto aspetta un giorno no vabbè insomma comunque sia lasciatemi qua proprio ogni volta io me la prendo come quando Odissio non si ferma con Nausicaa vabbè lei è un'altra tortura perché guarda sempre oltre perché Odissio guarda sempre oltre aspetta sempre guarda nel futuro futuro su presente come bisogna comportarsi un presente infinito come quello di Achille con tutto ciò che si porta appresso con tanti guai che capitano Achille per quel presente infinito o questo futuro sempre comunque futuro guardare oltre aspettare eccetera di Odisseo in realtà entrambe le scelte si portano appresso dei guai lo vediamo possiamo preferire un atteggiamento a un altro non c'è una un giudizio morale da dare sulle due strade quello che noi lettori amanti di Omero possiamo fare è cercare una mediazione e trovare quindi una risposta diciamo per noi alle nostre vite alle nostre attitudini a chi è più come Achille e chi è più come Odisseo trovare una risposta per vivere meglio le nostre vite la risposta ce la dà un elemento il mare il mare è infatti l'elemento che unisce Achille e Odisseo il mare è l'elemento della madre di Achille Teti il mare è l'elemento dell'intelligenza di Odisseo ovvero sia Metis entrambi gli eroi hanno un collegamento profondo con il mare solo che lo vivono in maniera diversa Achille vive il mare immergendosi nel mare tuffandosi nuotando nel mare Odisseo vive il mare appunto per navigare sul mare per guardare oltre per vedere il tempo che sta arrivando eccetera ma come è possibile veramente vivere il mare vivendo nel suo presente e il suo futuro vi sarà chiaro che l'elemento che manca a questi due eroi e che è fondamentale per unirli sul mare come sulla terra ma diciamo il mare è l'elemento comune e ce lo mostra in maniera diciamo così paradigmatica l'elemento che manca è il passato chiunque di noi viva sia che viva più il presente sia che viva più il futuro deve fare i conti con il passato con il passato è necessario confrontarsi per vivere bene il presente e immaginare un futuro questo i greci lo sapevano molto bene tanto che gli indovini ovvero sia coloro che vedevano il futuro non erano coloro i quali sapevano il futuro e basta ma sapevano il futuro perché perché la loro arte era conoscere il passato un brano un verso e ce lo dice in maniera perfetta all'inizio nel primo libro dell'Iliade e dice così calcante l'indovina figlio di Testore il migliore tra i vati conosceva il presente il futuro e il passato soprattutto il passato perché solo conoscendo il passato noi possiamo capire il nostro presente e immaginare un futuro si può vivere in tanti modi tutte le scelte sono discutibili si possono analizzare ci si può tornare quanto ci pare ma io credo che oggi più che mai qualunque sia la nostra scelta il nostro modo di vivere più il presente più il futuro immaginando un futuro aspettando che le cose cambino passino visto che insomma stiamo tutti passando tutti proprio tutti un periodo molto molto complicato si può vivere di cercare di vivere i nostri momenti i nostri attimi si può cercare di immaginare cosa sarà quando le cose torneranno o torneranno in un altro ma quello con cui dobbiamo confrontarci fare i conti è il nostro passato capire il nostro passato soppesare i nostri errori guardarli meglio entrarci in contatto forse c'è qualcosa che noi a livello individuale abbiamo sbagliato forse c'è qualcosa che abbiamo sbagliato a livello globale non so uno degli argomenti di cui si parlava molto prima che l'argomento unico delle nostre vite fosse il coronavirus era il cambiamento climatico non è escluso che il cambiamento climatico abbia a che fare peraltro con quello di cui tutti parlano appunto questa pandemia non faccio illazioni non voglio proprio parlare di nulla di questo genere non sono argomenti che conosco dico solo che non è escluso qualcuno dice che le cose stanno così ma comunque sia dobbiamo pensare ai nostri errori ma non solo ai nostri errori anche a ciò che abbiamo fatto di giusto nel passato per vivere al meglio i nostri giorni presenti e immaginare adeguatamente il nostro futuro solo così possiamo unire questi due grandi eroi che ci mostrano due vie contrapposte ma che in fondo sono complementari entrambi piangono entrambi vivono sul mare entrambi sanno che c'è qualcosa che a loro manca e probabilmente quello che a loro manca appunto è il passato vi ringrazio e io sto qui e a questo punto non so credo di dover aspettare le vostre domande e spero che possano arrivare numerose nel frattempo bevo volvo ricordare alle non poche persone che hanno seguito l'incontro che possono utilizzare lo spazio che è sulla destra per fare le loro domande intanto volevo ringraziare molto Matteo Lucci perché effettivamente come sempre andiamo già con lui affascinante il suo intervento e questa ricostruzione del triangolo Ettore Achille Ulisse credo che opera veramente la possibilità di rileggere Omero con grande con ancora maggior piacere di quello che magari erano i nostri i nostri ricordi di scuola io ricordo un bellissimo per me articolo di Nucci che uscì sull'espresso proprio all'epoca della pandemia in cui veniva realizzato quel momento di cui ci ha parlato anche oggi che il momento nella quale la sospensione come dire fa venire fuori quello che è il vero animo di Achille che sarebbe che è abbastanza misterioso per un lettore non dico superficiale normale e ho trovato veramente illuminante quell'intervento in cui per un attimo la sospensione permette di ritrovare la propria identità e la ringrazio io la ringrazio di questa di questa di questo intervento la ringrazio per il suo ringraziamento e effettivamente una delle cose che mi interessava in quel momento lì che era il lockdown diciamo era anche quella di spingere un po' di ricordare che per andare avanti bisogna comunque andare avanti passo dopo passo chi cammina in montagna sa che se guarda la vetta gli viene il fiatone dopo poco perché la vede lontana bisogna guardare i propri passi andare seguire momento per momento quindi Achille era una figura importante in un momento di tanta incertezza per appunto vivere il presente passo passo e e e vivere questo momento di sospensione al meglio visto che insomma questo è quello che potevamo fare insomma non non abbatterci e vivere al meglio le nostre possibilità a quel momento credo che sia ancora valido benché appunto come come ho detto oggi bisogna anche immaginare un futuro però tutto questo è possibile soprattutto tenendo conto del passato facendo i conti con il passato quindi grazie per questa suggestione penso che adesso insomma il periodo che stiamo vivendo è diverso penso insomma è evidentemente diverso da quello che abbiamo vissuto durante a marzo aprile con quel lockdown e e le cose sono insomma forse anche più complicate ecco una domanda ecco grazie a Ricci esatto la leggo io sì la lega lei sì se il mare è l'elemento che unisce Achille e Odisse o forse è perché riassume in sé alcuni aspetti salienti dei loro caratteri essere vasto e diverso come Achille insieme fisso come Ulisse sì penso che lei abbia ragione non c'è dubbio anche perché non mi sono soffermato sulle divinità marine che sono dietro Achille e Odisse ma appunto la madre di Achille Teti è una una divinità del mare e quindi spinge Achille nella vastità come dice lei del mare quindi a vivere la vastità del proprio animo nell'attimo in cui in cui la vive mentre Odisse che è legato a questa divinità che è Metis che è la divinità dell'intelligenza astuta quell'intelligenza fluida appunto come il liquido il mare che si infila in ogni pertugio come fa l'acqua che sa trovare la strada per 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 accerchiare l'ostacolo e lo viviamo tutti noi quando abbiamo a che fare con i tetti no? perché l'acqua si infila e non c'è niente da fare se non rifare la guaina perché a un certo punto non se ne può più ecco insomma ecco quella racconta come lei dice i caratteri proprio personali dei due eroi quindi grazie della suggestione c'è un'altra un altro intervento di Pierluigi Tosi che si ascolta dalla Germania come scusi? che si ascolta dalla Germania ma vedi com'è questo però è bello in fondo no? che io sto a Tene voi state a Reggio Emilia Tosi in Germania insomma non so nel questo nel male di questa situazione c'è qualcosa di bene di bene cosa comune separa i due eroi nei rispettivi tentativi di evitare la partecipazione alla guerra beh diciamo all'inizio questo non è raccontato da Omero ma è raccontato in altre storie Odissio non voleva andare assolutamente in guerra voleva restare con la sua famiglia col figlio e con la moglie e quindi si finge pazzo pur di non andare in guerra e fa quello che hanno fatto tanti ragazzi anche nel novecento per non andare in Vietnam per esempio si faceva molto spesso così ma viene svelata la sua follia la sua finta follia da un altro eroe molto astuto come Odissio che si chiama Palamede e Achille invece è spinto dalla madre che sa che la guerra lo porterà alla morte e quindi viene viene portato in un'isola dove viene camuffato da ragazza pensate Achille il grande eroe maschile per eccellenza è capuffato da ragazza e il suo tentativo appunto di sfuggire alla guerra viene invece svelato da Odissio che astutamente svela appunto il travestimento di Achille con tutto un tipico inganno odissiaco che è molto bello è raccontato da Stazio in latino ma diciamo anche Achille fondamentalmente cioè non ha tutta questa voglia di andare in guerra ma questo ce lo rivela la stessa Eliade quando Achille ci dice non è una guerra mia che sto a fare qui perché devo essere qui io voglio vivere con mio padre prendere i cavalli cavalcare i cavalli che sono famosi nella sua patria non vuole non vuole guerreggiare Achille vuole stare col padre col figlio entrambi vogliono vivere le loro vite di quotidianità domestica pensate e poi però seguono il dovere Donatella Pagni ci chiede lei ci ha mostrato un'interpretazione diversa dei due eroi rispetto a quello che abbiamo sempre sentito e visto in ognuno c'è un po' dell'altro perché secondo lei in realtà è prevalsa un'interpretazione così cristallizzata forse perché era più semplice caratterizzare le due figure e perché non riusciamo a vedere le sfumature allora perché non si leggono i poemi omerici io credo fondamentalmente se si leggono solo alcuni pezzi dei poemi omerici prevalgono quei pezzi se si leggono attentamente entrando nei dettagli e nelle sfumature noi lasciamo vivere altre parti dei poemi detto ciò ogni interpretazione ha il suo al suo merito ogni lettore dà ciò che legge la sua una parte di sé quindi sicuramente c'è chi potrebbe dire il contrario di quello che dico io certo che io mi batterei per sottolineare certi aspetti io francamente il motivo per cui si si debba dire che Achille è un cretino spesso si dice ma insomma tutto dedito alla guerra vendicativo e sanguinario e di Odissio no non lo capisco perché Odissio quando fa la strage dei pretendenti è di un sanguinario che non ci si crede basta leggere quel libro lì dell'Odissea per vedere che è più violento di Achille non so che dire spesso si fa un po' di spesso le letture sono semplicistiche spesso è più più appunto facile dirla in un modo che magari sembra più appassionante o più persuasiva e seducente dirla in quel modo spesso c'è semplicemente un po' di di ignoranza e in questi nostri tempi sta prevalendo sempre di più una lettura molto molto attualizzante noiosa insomma che volere dica io penso si debbano leggere i poemi e si debba cercare di fare il proprio meglio per leggere in quei poemi ciò che c'è che c'è di nascosto che è un tesoro inesauribile un'altra domanda di Grazia Ricci compriamo Achille capace di empatia Ulisse troppo preso dal suo pensare il futuro perde un po' questa capacità sì non c'è dubbio è quello che proprio ho cercato di di raccontare qui penso sì che lei abbia ragione che Achille sia spesso nonostante non lo si dica più empatico di Odissio però Odissio è molto capace molto sensibile molto di capace capace di di capire l'animo altrui però spesso l'animo altrui lo capisce per guardare ai fatti suoi Lorenza Cardinali scrive questo credo che entrambi sentissero come inevitabile ineluttabile la partecipazione alla guerra anzi la partecipazione in generale al loro destino potrebbe specificarci qualcosa sull'intervento degli dei che è così massiccio nei due poemi che è abbastanza lontano dal nostro sentire moderno grazie ma grazie a lei e qui però apriremo una questione infinita che è quella del rapporto degli dei con gli uomini nei poemi omerici e ci vorrebbe un'altra ora spero che mi rinvitate e parliamo di questo questo non è per eludere la sua domanda qualcosa glielo dico ma insomma non sarà mai esaustivo come si deve essere anche qui dipende un po' dalle interpretazioni che si sceglie di seguire io credo che gli dei cioè credo gli dei nei poemi omerici rappresentano un doppio degli uomini cioè sono esattamente uguali nei loro atteggiamenti agli esseri umani parlano come gli umani mentono tradiscono si accoppiano come gli umani semplicemente rispetto agli umani sono immortali questa è una grossa grossa differenza che però rimanda a qualcos'altro di cui adesso non voglio non posso parlare perché è un discorso molto bello complesso e appunto se mi invitate speriamo in presenza ne parleremo quello che però voglio dirle che io credo sono portato a pensare che l'interno l'intervento degli dei sia un modo nei poemi omerici di raccontare in realtà delle tensioni presenti all'interno della psiche degli esseri umani che questo loro essere un doppio degli umani in realtà racconta qualcosa che ha a che fare con la stessa umanità e quindi io non sono propenso a vedere negli dei un intervento come se gli esseri umani fossero marionette in mano agli dei io penso che gli esseri umani abbiano la loro libertà di agire e che sì c'è un fato c'è un destino ma è molto difficile capire come funzioni nei poemi se ne parla di nuovo è una questione molto complicata ma credo che il destino in fondo è quello che scriviamo noi il fato è quello che scriviamo noi umani lo stesso Achille che ha un destino di breve vita in realtà è lui in parte a scriverlo io credo ma ripeto è veramente complicata questa questa vicenda e rispondere così al volo sarebbe veramente sbagliato ho accennato qual è la mia opinione ce ne sono tantissime spero che ci potremo tornare Carla Spaggiari quale versione dell'Iliade ci consiglia io dico ce ne sono varie una molto amata da me e quella che ho usato qui è quella di Rosa Calsecchi Onesti di Enaudio una vecchia traduzione che per me è molto bella e sempre valida perché ha ricreato il verso cercando di mantenere l'ordine delle parole di Omero ed era un po' il consiglio che le aveva dato Pavese delle nuove traduzioni molto buona è quell'ultima di Ferrari per Mondatori ma dell'Iliade quella forse che io preferisco tra le versioni moderne è quella di Cerri di Giovanni Cerri per Rizzoli Lorenza Cardinali grazie mille alla prossima lezione allora era per la questione degli dei speriamo a questo ringraziamento mi associo perché è veramente stato molto interessante e questa ultima cosa che lei ha detto sul ruolo degli dei cioè anzi che rappresentano in fondo le tensioni che sono all'interno dell'animo umano questo è veramente molto molto interessante anch'io condivido e faccio proprio l'invito a rileggere questi poemi meravigliosi anche la versione e condivido la versione che della Calzecchi Onesti che io ho letto e studiato nei miei studi classici perché quella consente anche di leggere facilmente in metrica i versi omerici ecco io la ringrazio ancora speriamo davvero di poter tornare a fare queste perché credo che il percorso sui miti continuerà c'è troppo materiale e troppo affascinante per perdere per perderlo per la strada ma speriamo di poterlo fare davvero in presenza la prossima volta grazie grazie a lei vedo che chiedono anche dell'Odissea anche dell'Odissea consiglio Rosa Calzecchi Onesti come abbiamo detto entrambi delle versioni moderne c'è quella ottima di Paduano e quella di Privitera l'importante è prendere le versioni inversi ce ne sono di ottime bellissime in prosa ma io non capisco perché si debba mettere in prosa Omero come non ho capito perché si debba mettere Omero senza gli dèi come è stato fatto riscrivere l'Iliade senza gli dèi non lo capisco però appunto quello ha a che fare con quell'argomento di cui speriamo di poter parlare in futuro e in presenza quindi no niente mi sembra di dovervi semplicemente ringraziare e augurarvi il meglio per questo periodo difficile ma insomma appunto c'è un fato il fato è ciò che è scritto questo vuol dire fato ciò che è scritto forse dipende semplicemente da chi lo scrive e dobbiamo essere noi a prendere carta e penna e scrivere il nostro presente e il nostro futuro più che possibile bene allora ancora grazie e alla prossima grazie a voi un saluto a tutti un saluto a tutti anche da parte mia a presto speriamo di mangiare insieme a Reggio Emilia esatto i capelletti meravigliosi qui a Dene non ci stanno c'è Marco che vuol parlare volevo solo salutarla ringraziarla ancora è anticipato quindi siamo a posto e volevo chiedere appunto la versione di Baricco ma mi ha già dato una chiave di lettura piuttosto precisa del suo punto di vista è il mio punto di vista sì sì non si possono togliere gli dèi dai poemi non si può ma ne parleremo speriamo proprio di parlarne certo grazie alla prossima alla prossima buona serata